Stiamo andando al monastero dove si svolge la vicenda della monaca di Monta, dove lei viene prima accolta, poi dopo diventa protagonista di questa vicenda incredibile per l'epoca e che poi dopo Manzoni riprende i suoi promessi sposi. Ed è bello che sia qui a Monza secondo me perché raccontare quella storia di centinaia d'anni fa ti fa davvero capire come doveva muoversi la gente, come quest'uomo che andava a trovarla di nascosto poi si potessero muovere in questa città che è molto simile a livello di tessuto urbanistico a quella odierna, il duomo, la chiesa, cioè sono rimasti questi posti, capito? Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi mi trovo a Monza per parlare di un personaggio di cui tutti abbiamo sentito la storia, ma di cui pochissimi conoscono la vera storicità. Sono a Monza e mi trovo qui per parlare di Suor Marianna de Leyva, la monaca di Monza. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovane, scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi e color sgherri e con l'alleanza ed altri scellerati potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. E' la descrizione con cui Manzoni introduce la figura di Egidio. Uomo incline alla violenza che induce al peccato il personaggio di Gertrude, altre si nota come la monaca di Monza. Caposaldo della letteratura romantica italiana, tra le sue pagine i promessi sposi annovera numerosi eventi storici riadattati. Uno di questi è proprio lo scandalo che vide coinvolti la suora Mariana de Leyva e il suo amante, il nobile Giampaolo Osio, colpevoli di un'immorale relazione durata dal 1598 fino al 1608. Manzoni cambiò i nomi dei protagonisti e spostò avanti nel tempo la vicenda, ma poté studiarla a fondo grazie alla lettura delle carte processuali e al libro Istoria Patrie di Giuseppe Ripamonti, storico di fiducia dell'arcivescovo Federico Borromeo. Giunti a questo punto della storia vorrei parlare però dello sponsor di questo video, che è NordVPN. Sì, perché sapete che sto passando l'inverno in Grecia, ma grazie a NordVPN sono venuto a fare un salto qui in Lombardia. L'argomento era troppo interessante per parlarne dallo studio e dall'azienda, andato all'ok per finanziare la realizzazione del filmato. Per chi non lo conoscesse, NordVPN è un provider di servizi di virtual private network, i quali consentono di connettersi a internet in modo sicuro, senza paura di cadere preda di truffe e attacchi online. Nel 2021 sono aumentati del 10% rispetto al 2020, grazie al suo sistema, che consente di evitare la connessione a siti web che sono stati certificati come portatori di malware, phishing o spyware, ma non solo. Con NordVPN potete scegliere da quale paese connettervi e potete visitare i siti web che in Italia sono bloccati. Io ad esempio per avere accesso ad alcuni paper universitari per le ricerche dei video, lo uso per connettermi ai server statunitensi, ma chiunque può utilizzarlo come crede, ad esempio per guardare le serie tv che in Italia non arriverebbero. Per provare NordVPN e supportare Vanilla Magazine vi sarà sufficiente utilizzare il link che vi lascio in descrizione, nordvpn.com slash vanilla magazine, avrete accesso a uno sconto speciale riservato alla community di Vanilla sul piano biennale più un bonus aggiuntivo. Potete provare NordVPN senza rischi grazie ai 30 giorni di prova con garanzia di rimborso. E ora, torniamo alla nostra monaca. L'Unione fruttò alle casse dei Deleiva l'ingente dote di Virginia, vedova del conte Ercole Pio di Savoia, signore di Sassuolo, ma fu di breve durata. Vittima della peste, Virginia si spense prematuramente nell'ottobre del 1576, un anno dopo aver dato alla luce Marianna, la futura monaca di Monza. A Martino, uomo d'armi dall'animo battagliero, poco importava dell'educazione della figlia, perciò, affidata alla bambina alle cure di una zia paterna, partì per servire nelle Fiandre Don Giovanni d'Austria. Nel 1588 il destino di Marianna subì una svolta inaspettata. Suo padre sposò in seconde nozze una nobile donna valenziana, Anna Viches de Monciada, da cui ebbe alcuni figli maschi e, per evitare che il patrimonio accumulato si disperdesse in seguito a un eventuale matrimonio, esortò la figlia a entrare in convento. All'età di 13 anni Marianna divenne novizia nel monastero monzese di Santa Margherita, lo vedete alle mie spalle anche innevato oggi, che posto sotto l'egida dell'arcivescovo Federico Borromeo, ospitava l'ordine delle monache benedettine di clausura. Il 22 settembre 1591 prese ufficialmente i voti come Suor Virginia Maria, in onore della defunta madre. Nella comunità clericale Marianna occupava una posizione di rilievo. In virtù del potere e del prestigio della sua famiglia, votette di numerosi privilegi, quali un appartamento tutto suo all'interno del monastero, dame di compagnia, suore ausiliarie al suo servizio e una conversa, una suora laica addetta ai lavori manuali. Inoltre su Delega Paterna esercitò in tutto e per tutto il ruolo di feudataria di Monza. L'evento che segnò le premesse per il suo peccato ebbe luogo nel 1597. Santa Margherita confinava con la dimora della ricca famiglia degli Osio. Uno dei loro membri, Giampaolo, aveva la malsana abitudine di adocchiare e sedurre alcune educande, intente a passeggiare per il cortile, e la cosa non passò inosservata. Nato a Milano nel 1572, Giampaolo era, come lo descrisse Giuseppe Ripamonti, ricco e ozioso, bruno, alto, snello, d'una eleganza innata, dotato di una specie di fascinoso prestigio. La sua famiglia di origini bergamasche era nota alle cronache dell'epoca per degli atteggiamenti altezzosi e violenti che il giovane Rampollo ereditò a pieno. Bello e sicuro di sé si guadagnò presto la nomea di Don Giovanni e, forse attizzato dall'idea del sacro e del profano, sedusse Isabella degli Ortensi, giovane educanda del monastero. Colto in flagrante da Marianna, all'epoca maestra delle educande, subì un aspro rimprovero, un gran rebuffo come lo definì lei in sede processuale, e fu subito allontanato. La monaca non si limitò a redarguirlo, ma avvertì le autorità e i genitori della ragazza. Dotato di un carattere impetuoso e irascibile, Giampaolo volle vendicare l'affronto, assassinando un gabelliere dei Deleiva. Conscia della fama poco lusinghiera dell'osio, Marianna puntò il dito contro di lui che, braccato dai gendarmi, dovette darsi alla macchia. Tornò in città dopo un anno di latitanza, grazie all'intercessione di alcuni suoi amici potenti, i quali garantirono per lui e convinsero la feudataria di Monza a ritirare la denuncia e accettarne il pentimento. Nuovamente sotto il tetto della dimora, confinante con Santa Margherita, riprese le sue attività guaiaristiche, ma ravvisò il desiderio di non accontentarsi di una suora qualunque, bensì di puntare in alto, voleva Marianna. Da lì in poi ebbe inizio un serratissimo corteggiamento, fatto di occhiate fugaci e corrispondenze nascoste. Da principio orestia, Marianna vide le sue difese allentarsi, arrendendosi infine, a un istinto naturale che, visti i suoi abiti, non le era concesso. Per scalfire le resistenze della futura amante, Giampaolo ottenne l'aiuto di Paolo Arrigone, parroco di una chiesa attigua al monastero. In passato era stato anche lui respinto da Marianna e si offrì di suggerire al nobile atteggiamenti, parole e strumenti di seduzione per mettere sotto scacco la giovane Deleiva. È storicamente accertato che tutte le lettere firmate da Giampaolo furono opera proprio del suo complice. Cominciarono gli incontri, prima in parlatorio, dove, a detta della monaca, l'osio la violentò in quello che fu il loro primo atto carnale, poi negli alloggi privati della donna. Patresca vide coinvolte due suore, Ottavia Ricci e Benedetta Omati. Confidenti di Marianna, forse anche amanti occasionali di Giampaolo, senza batter ciglia operarono nell'ombra affinché quell'immorale relazione andasse avanti. La monaca dei Monza lasciò campo libero all'amante che, innamoratissimo, rese le sue visite sempre più frequenti, arrivando addirittura a commissionare al fabbro Cesare Ferrari dozzine di duplicati delle chiavi del monastero. In realtà, quell'amore profano era di dominio pubblico, ma entrambi appartenevano a delle famiglie potentissime. Sollevare un polverone o far girare pettegolezzi equivaleva a inimicarsi l'intera nobiltà lombarda. Randevù più o meno segreti, lettere, regali, Santa Margherita fu teatro di una storia dal carattere quasi consuetudinario, una sorta di matrimonio sotto copertura, sfociato infine in un parto. Assistita dalle fidate Ottavia e Benedetta, nel 1602 Marianna le della luce un bambino nato morto che Giampaolo provvide a far sparire. L'evento colpì drasticamente la fragile psiche della donna, combattuta fra il desiderio carnale e la castità impostale dai voti. Ed ebbe una vera e propria crisi di coscienza, cercò in tutti i modi di troncare, di liberarsi di quelle pulsioni che lei pensava indecenti e, come confessò al processo, nella speranza che funzionasse, si affidò anche a pratiche disgustose, quali la coprofagia. Avevo sentito dire che, mangiandosi dello sterco di colui che amavasi tre notti, gli si sarebbe venuti in odio, io perciò bembbi a cibare del suo sterco. Da un atto del genere si evince quanto davvero desiderasse sottrarsi a un peccato che si era protratto troppo lungo, ma non ci riuscì. La relazione continuò e l'8 agosto 1604 Marianna diede alla luce una bambina, Alma, Francesca, Margherita. Occupatesi del parto la notte stessa, Ottavia e Benedetta affidarono la neonata a Giampaolo. Sebbene la sua immagine pubblica fosse quella dello scapolo, incurante delle male lingue, la fece battezzare e la portò a vivere con sé, dimostrandosi un padre affettuoso. Per ragioni ignote la riconobbe solo nel 1606 e negli anni seguenti l'accompagnò spesso al monastero, affinché godesse della compagnia della madre. Dopo il processo dei genitori sappiamo che fu affidata alla nonna paterna, dopodiché di Alma, Francesca e Margherita non si hanno più notizie dimenticata fra le pieghe della storia. La situazione precipitò nel 1606 quando la iniziò a intrecciarsi con una serie di efferati delitti. Il pomo della discordia fu Caterina Cassini de Meda, una conversa di umili origini. Con i suoi consueti modi tiraneggianti, Marianna rimproverò e punì la ragazza che, al corrente della relazione, minacciò di rivelare i nomi di protagonisti e complici della scomoda vicenda al vicario arcivescovile Monsignor Pietro Bianca. Il ministro di Dio era atteso a Santa Margherita per una visita al monastero e, tale incombenza a una questione di pochi giorni, spaventò a morte la monaca. Nonostante le numerose intimidazioni, Caterina si dimostrò restia ad abbandonare i propositi vendicativi, perciò Giampaolo prese in mano le sorti della scellerata ricattatrice. Coadiuvato da Marianna Benedetta e Ottavia, il nobile si introdusse furtivamente nella camera della conversa, la mise a tacere per sempre. Col favore delle tenebre nascose il cadavere nel pollaio del monastero per poi, in un secondo momento, occultarlo, facendolo a pezzi e liberandosi della testa, in modo tale da scongiurare qualsiasi riconoscimento. Il piano fu orchestrato fin nei minimi dettagli e, per dar adito all'ipotesi che Caterina fosse semplicemente scappata, voce messa in giro dalle sue complici all'indomani dell'omicidio, praticò una spaccatura fra le mura. Scampato il pericolo, Giampaolo non si tranquillizzò, anzi perse totalmente il controllo. A partire dal 1607 eliminò personalmente il fabbro, di cui si era servito per i duplicati delle chiavi, e ordinò a un sicario di sbarazzarsi dello speziale Raniero Roncino, la cui bottega confinava con Santa Margherita. Stando alla logica dell'osio, queste persone erano dei testimoni scomodi, che avrebbero potuto interrompere il silenzio da un momento all'altro. Ma Giampaolo si dimostrò incauto e pagò con la vita il prezzo delle sue impudenze. Le misteriose morti attirarono l'attenzione delle autorità, e il prestigio familiare dei due amanti non bastò più a proteggerli. L'uomo, sospettato come mandante degli omicidi, in vertù delle ben note voci sulla presunta relazione con Marianna, fu fatto arrestare e rinchiudere nel castello di Pavia. Nel giro di poco tempo riuscì a evadere, trovando asilo presso amici e parenti e rifugiandosi, infine, nel monastero dell'amante. Mentre il processo laico a suo carico lo vide condannato a morte in contumacia, con conseguente ricompensa di mille scudi per chi l'avesse assicurato alla giustizia, l'eco degli eventi giunse all'orecchio dell'arcivescovo Borromeo e il 25 novembre 1607 fece trasferire Marianna nella chiesa milanese di Sant'Ulderico al bocchetto, affinché fosse giudicata secondo le norme ecclesiastiche. Con l'inizio dell'inchiesta, Giampaolo reputò i tempi maturi per spostarsi e sbarazzarsi delle ultime testimoni, Benedetta e Ottavia. Il conte Osio attirò le due suore presso il lambro e, tramortendola con il calcio dell'archibugio, gettò Ottavia nelle acque del fiume. Fingendosi morta, riuscì a sopravvivere e, trovata a valle da un contadino, si spense nel giro di pochi giorni, ma non prima di aver confessato lo scandalo in cui era coinvolta. A Benedetta toccò una sorte migliore. Dopo aver assistito inerme al brutale atto di Giampaolo, fu da costui rassicurata con l'inganno. Le propose di fuggire e iniziare una nuova vita insieme, ma la mattina successiva la gettò in un pozzo, dove fu tratta in salvo da alcuni passanti. La storia del conte omicida si concluse a Milano, in un imprecisato giorno del 1608. Rifugiatosi presso la dimora di Cesare II Taverna, conte di Landriano, suo amico, fu da questi tradito e fatto uccidere nei sotterranei. Quanto alla monaca di Monza, il processo a suo carico fu ampiamente documentato e l'arcivescovo Borromeo assistette alle numerose deposizioni in cui l'imputata ammise tutte le sue colpe, ma non mancò di sottolineare che spiritualmente la relazione era stata di attrazione e repulsione. Con perizia di particolari, palesando un animo combattuto, descrisse gli eventi che l'avevano indotta al peccato e i vani tentativi di sottrarsi a quella malsana passione. Il 17 ottobre 1608 fu emessa la sentenza. A Marianna dell'Eiva, rea di un amore proibito, celato per mezzo di efferati delitti, spettò la reclusione a vita in una cella murata. Per ordine di Borromeo fu, quindi, trasferita nella casa milanese delle convertite di Santa Valeria, che non era un monastero, ma una sorta di ritiro, anche piuttosto inospitale, in cui trovavano ricovero prostitute in cerca di redenzione. Da nomildonna italo-spagnola e feudataria di Monza, Marianna scontò la sua pena in una cella minuta, di appena due metri per tre, con un muro di mattoni eretto subito dopo il suo ingresso, su cui furono aperti due fori per consentire il passaggio dei viveri e il riciclo dell'aria. La segregazione durò circa 14 anni e, in seguito ad alcuni colloqui, nei quali si appurò la redenzione della donna, nel 1622 Borromeo ne ordinò la scarcerazione. L'arcivescovo decise che Marianna sarebbe stata un simbolo, un esempio di ravvedimento dal peccato, e le affidò il compito di scrivere lettere di conforto a suore o novizie incerte sulla loro vocazione. Assistendo spiritualmente le sue consorelle da Santa Valeria che, nonostante la sospensione della condanna non abbandonò mai, la vera monaca di Monza si spense a Milano il 17 gennaio 1650, all'età di 74 anni. Storpiando le parole di Manzoni, la relazione fra lei e l'osio era una storia che non sa da fare. Questo marmo qui ricorda proprio il marmo del Duomo di Firenze. Tra l'altro la facciata sai che è dell'Ottocento, non è del tempo dei Medici. No, questo è veramente una facciata spettacolare. La voglio fare anch'io questa pericola dalla via Teodolina, la regina dei Longobardi. L'inverno di così, più Natale di così, impossibile. Livello Natale 100%. L'inverno di così, più Natale 100%